Prima casa al 3,5 per mille, seconda casa al 10,2 e agevolazioni per famiglie con disabili e immobili strumentali. Sono queste le novità dell'Imu rivisto e corretto in vista del saldo di dicembre. Pescara diventa dunque una delle città meno care d'Italia, così come era stato promesso in fase di approvazione del regolamento quest'estate. Una buona notizia per i proprietari di immobili che comporterà per il comune un taglio delle spese di circa 2 milioni e 600 mila euro, tanto infatti si è dovuto reperire scavando nelle casse comunali. L'ordine del giorno sul quale si è trovata la quadra dopo giorni di rinvie e riunioni è quello presentato dall'opposizione appoggiato dall'UDC che come era già accaduto per la votazione di Pescara Parcheggi torna ad appoggiare la minoranza. Era accaduto già in precedenza, c'è stata una marcatura anche nel consiglio comunale che si è svolto ieri sera, è una marcatura che va nell'interesse della città e che sicuramente è l'inizio di un cammino di smarcamento in questo caso di una forza politica che fino adesso è stata in maggioranza e adesso comincia invece a fare scelte nell'interesse della cittadinanza. È un successo importante da parte delle opposizioni, da parte di Fli, da parte del PD, da parte dei tagliari valori, di Selle, di rifondazione comunista e anche dell'UDC che nell'ultimo periodo si è appoggiata sulle nostre posizioni verificando che ci sono soldi in cassa e che l'amministrazione avrebbe potuto fare un bel regalo come è stato fatto ai cittadini di Pescara. Questo vuol dire che politicamente, che probabilmente si stiamo avvicinando alla fine di questa legislatura perché mancando i voti dell'UDC, ovviamente l'amministrazione Mascia non ha più numeri per governare ma questo noi di Fli lo stiamo dicendo da tempo. Per il capogruppo UDC in comune Vincenzo Dogali nessuna spaccatura con il PDL. Pacta sunt servanda, afferma Dogali, che ricorda come l'attuale convergenza risponda perfettamente all'accordo di luglio, sottoscritto anche dal PDL che oggi sembra messo all'angolo. Prove tecniche di alleanza PD-UDC in Abruzzo sull'onda lunga del voto siculo? Per Dogali è ancora presto per pensarci. Questo lo andremo a verificare successivamente ma adesso stiamo in una fase per cui stiamo approvando delle aliquote e sulle quali noi avevamo già fatto un accordo firmato da tutti, da PDL, UDC e PD. Quindi per quale motivo non bisogna rispettarlo? Andiamo verso queste famiglie che oggi sono in grande difficoltà. In tutto questo polverone sollevato da un regolamento IMU che sembra aver spaccato per l'ennesima volta la maggioranza del sindaco Mascia, proprio il primo cittadino non ci sta a lasciare il merito del taglio dell'aliquota all'opposizione. Per Mascia infatti ciò che conta oggi è che i pescaresi pagheranno sensibilmente meno. Questo è il momento in cui tutta Italia bisogna assumersi delle responsabilità. Noi che rappresentiamo le istituzioni in primis abbiamo il dovere di non mandare in onda contrapposizioni, sterili confronti, ma di trovare tutti quanti insieme le soluzioni per le nostre comunità. E quello che abbiamo fatto in comune è quello che stiamo facendo da oltre 24 ore perché l'interesse di tutti non c'è né destra né sinistra, è quello di fare nel migliore dei modi l'interesse delle nostre comunità.